come lo chiamano per via della capigliatura, l'emozione dei primi minuti in bianco e nero per lui oggi con la maglia numero 11, normalmente nella stagione vera e propria vestirà il 23 fuori Gian Donato che dunque ha giocato meno di un tempo ma non era in perfette condizioni Arturo Vidal per i primi minuti della sua nuova carriera, ha giocato a Montpellier ieri 90 minuti da difensore con il Cile